Per numerosi anni ho coltivato un sogno, ho avuto il più fervido desiderio di avere un atelier più spazioso in modo da poter creare delle sculture anche di altre dimensioni. Questo sogno si è finalmente realizzato, mi sembra ancora un miracolo adesso. Difatti il 16 giugno sarà inaugurato un nuovo atelier con un evento vero e proprio che comprende musica dal vivo, danza contemporanea e molti ospiti. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti